Musica Una sciogliere passi logici porta oggi in Matra e abbiamo parlato della necessità di diversificare l'attività per poter campare in paesi. All'anno abbiamo parlato con Pier Pellegri che è un ristorante che è qui, che è qui, giusto, darete a me ma che è di noi altri barrizi. Prima d'appa, dunque, un ristorante e il caffè di Ubaiesi e Matra a parto tutto l'anno assicurati di arrivare in utile ai so badroni e le azucciali ai baisani. Ma c'è un po' il giro e c'è quello che mantiene la vita nel villaggio. Parfoi, siamo qui per due clienti o anche se non si chiunque e non c'è nessuno e poi, altre volte, c'è un po' più di persone. Ci si può dunque, tuca un bittiero ma di non mani a prodotti di Ugantano che non si diventa i mercanti Pier Pellegri è un sito per cadio e due attività sono complementari. Con questi porc sono prodotti della charcuterie, del colchon di lì e della vianda di porc. On s'est installato in 2012 in Chèvre-Corse e poi, petit a petit, con le anni on ha sentito il bisogno di se diversificare tra l'altro perché siamo relativamente isolati on voleva centrare un po' il lavoro al village l'idea è passata d'abord in porcino poi poi abbiamo l'opportunità di creare dei gitti in un ancien boulin familiale che abbiamo potuto trasformare in gitti agri-touristica poi questa opportunità del restaurant che ha un po' di bocli la bocca e che ci permette di lavorare più al village. all'oggi situati un piccolo chilometro più indio in un baiese immoido. di edivati a terza attività di avamilia Pellegri creata un mese di marzo scorso il lavoro sono stati lunghi che ho aspettato se non d'ai a immagini. a fatto tutto il lavoro è stato stato di ruina a stato di grange da più molto tempo dopo che mio figlio e il mio figlio e il mio figlio e il mio figlio è stato sempre conosciuto a stato di grange credo che è stato un boulin che ha dovuto s'arrate a causa della guerra di 14-18 quindi è stato stato molto lavoro quindi per l'instant abbiamo una clientela essenzialmente di turisti molto di strani quindi è una clientela che è in ricerca di più di authenticità di sport di montagna di marche eccetera poi il fatto che che ci sia il lavoro che ci sia il contacto con il produttore che ci sia il ristorante che ci sia il produttore che ci sia il produttore c'è il ristorante e l'exploitation agricole c'è anche il ristorante il fatto che il faille se diversificare oggi per poter vivere tutta l'anno nel village e battire son actività professionnelle sì bisogna di se diversificare soprattutto quando siamo in una region come questa dove non c'è non c'è un mondo e che sono poco touristiche e poi ci sia permet di non avere tutti i ui in un panico notamment l'élevaggio è sempre aléato quindi è più sicurizzante di se diversificare e poi ci sono delle attività che al final sono complémentari Per sei giornati so dei volti lunghi curando trasplutazioni e ristoranti diversificare le attività professionale da un comercio all'agricoltura par un detto è quasi una necessità da fare azuita passivallese di l'interno